Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a Gioia Tauro nel mio istituto di dermopigmentazione e sono qui con la mia cliente Marzia Ciao Ciao Marzia, benvenuta Grazie Oggi volevamo raccontarvi un po' com'era la vita di Marzia prima di effettuare il trattamento su esse sopracciglia Marzia, raccontaci un po' com'erano le tue mattinate a star dietro alle sopracciglia Era un continuo utilizzare la matita all'inizio ero molto ritubante all'idea comunque di tatuarmi le sopracciglia poi grazie comunque alle tue esperienze alle foto, alle testimonianze dei clienti mi sono affidata a te scelta di cui non mi perdo assolutamente perché guardate il risultato, sono bellissima sono felice che mi dici la matita non ho bisogno di ritoccare le foto perché prima comunque era sempre ritoccare le foto soprattutto per le sopracciglia quindi non mi pende assolutamente della scelta che ho fatto le sopracciglia sono molto importanti vero? sì, per lo sguardo soprattutto per la presentazione poi tu, essendo che fai comunque la dottoressa sei molto contatto con le persone che ti guardano anche in maniera diretta si è molto più ordinata quando hai le sopracciglia è comunque ben curata e quindi... allora dici sì SS sopracciglia? SS sopracciglia sì, ciao ragazzi! ciao! 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 ciao!